buongiorno a tutte sono rosanna gonella faccio parte dell'associazione delle donne del vino piemonte da diversi anni sono entrata in associazione come sommelier appassionata ai vini da da tanti anni arrivo dalla prima della ristorazione poi ho avuto un locale mio come a livello di di bar adesso da tre anni collaboro con mio figlio che è enologo insieme abbiamo aperto questo locale che si chiama eno caffè calici abbiamo chiamato calici perché comunque il nostro locale promuove e lavora sprettamente per far sì che la gente possa conoscere più il più possibile se vicini al mondo del vino questo lavoro principalmente quello di promuovere il nostro territorio i vini del nostro territorio il locale è nella centralissima canelli e in una delle piazze storiche in piazza medio d'aosto locale molto piccolino sono 40 metri quadrati però una vista bellissima e il nostro lavoro dicevo prima non voglio ripetermi comunque per me negli anni è stato quello di sbicchierare tanti tanti vini e tantissime manifestazioni specialmente legate comunque alle donne del vino interessante un mondo sempre in continua evoluzione non si finisce mai di imparare perché questo mondo è molto molto variegato e si imparano sempre cose nuove tutti i giorni che ci si avvicina e si apre una bottiglia si legge un etichetta è un modo comunque di proporre a chi viene in italia a chi viene anche da fuori specialmente agli stranieri di far conoscere tutto quello che è il nostro territorio quello nostro scopo principale di far sì di promuovere i nostri prodotti più di tutto cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile diciamo che la nostra associazione è veramente secondo me un'eccellenza a tutti in tutti i sensi sono molto fiera di far parte di questa associazione che dirvi venite nei nostri locali nei nostri ristoranti dappertutto dove ci sono le donne del vino perché vi troverete sempre un sorriso e un calice alto per brindare perché ovunque ci sia la festa in qualsiasi occasione c'è sempre un calice con del vino dentro e dietro ci siamo noi le donne del vino grazie a tutte buon lavoro